Come ricordavo stamattina è sicuramente un grande piacere potersi ritrovare in una manifestazione in persona, soprattutto dopo questi due anni molto difficili e molto complicati. Vedo che c'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di fare squadra e soprattutto c'è tanta voglia di tornare a viaggiare e a muoversi per cui non c'è il miglior palcoscenico di questa manifestazione fieristica dove abbiamo la fortuna di incontrare, di incrociare operatori da tutto il mondo. È una fiera sicuramente molto internazionale che è molto in linea con quello che è il profilo della Ghirardi che esporta il 97% dei propri prodotti in giro per il mondo. Grazie a tutti.